Rimasi un momento come inchiodato dallo stupore, poi guardai rapidamente, ansiosamente in mezzo a quelle cose, dalla parte dove mi pareva che fosse giunta la voce, ma non vidi nessuno. Mi chinai tutto giù, sull'orlo del fossato, e la stessa voce più vicina, ho detto che non si va. Ma, nello stesso tempo, da un folto di non so che oggetti vari, che stavano aggruppati in un angolo e a cui non avevo ancora fatto caso, uno di quelli si staccò e rapidamente saltò sul ciglio dove io ero. Si piantò proprio al mio fianco. Era un manichino, un manichino di vimini, di quelli alti come un uomo, senza braccia né testa, su cui le sarte provano i vestiti delle signore. Io mi ero rialzato di colpo e avevo dato un passo indietro. Il manichino stava leggermente chinato e sporto verso di me. Non so dire se, così vuoto e senza testa in quella posa, fosse piuttosto minaccioso o piuttosto ridicolo. Certo, il mio primo spavento s'era già dileguato, perché subito gli rivolsi la parola. Eri tu che mi parlavi? Tutte le volte che ho ripensato a quella scena mi sono domandato come mai quel coso mi avesse ispirato tanta confidenza da dargli del tu. E chi ha da essere? Noi parliamo con la lingua, ma lui con che cosa parlava? Era davvero buffissimo. E chi ha da essere riprese? In mezzo a tutti questi oggetti, io sono la sola creatura dotata di intelligenza, di volontà e di parola. Vedo, vedo. E come ti chiami? Che domanda sciocca, esclamò. C'è bisogno di avere un nome? Il nome serve agli uomini, ai cani e simili, altrimenti non sanno distinguersi gli uni dagli altri. Io sono io. E basta. Se basta a te, gli esposi, figurati a me. E che ci fai qui? Sono il re di tutte queste cose, proclamò con sussiego. Così dicendo, si voltò verso il fossato, proprio come uno che avesse fatto un gesto col braccio per indicare. Probabilmente lui credeva di averlo, il braccio, e si immaginava di fare il gesto. Tutte queste cose, continuò, sono gli oggetti che furono riflessi un giorno o l'altro, anche per un momento solo, dentro l'antichissimo specchio di cui io sono il sovrano. Oh, 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 esclamai. Ma allora, ma allora, che cosa mi ha detto il re bianco? Che vuoi che sappia, quell'imbecille, disse il manichino. Il suo tono era così sprezzante, che certo, con la bocca, che non aveva, doveva credere di aver fatto una smorfia. Non ti confondere con quella gente, continuava. Non capiscono niente. E chissà quali diavolerie ti hanno messo in testa. Gli specchi sono fatti per ricevere ed eternare le immagini degli oggetti, come tu sai. Ci si riflettono anche gli uomini e le donne, ma è un di più. Non ha importanza. Appena un oggetto è stato riflesso nello specchio. È fatta, la sua immagine rimane dentro e cammina e subito arriva qui, in questo luogo elevato, dove diventa immortale. Invece le immagini delle persone, non avendo importanza, restano giù, nella regione inferiore che devi avere traversata. Questo luogo qui non sanno neppure che ci sia. Per venire qui si sale, te ne sarai accorto. E soltanto le immagini degli oggetti, creature superiori, possono salire. Quelle degli uomini, anime piatte, non possono. Esse infatti non conoscono la regione piatta più giù, la pianura. E gli scacchi? Quelli sono una cosa di mezzo tra le persone e gli oggetti. Qualche valore, mio Dio, ce lo hanno, ma non tanto da arrivare quassù. Guarda, guarda, e tu chi sei? Io? Io sono un manichino. Il manichino dove si faceva provare i vestiti una signora, che era padrona dello specchio molti anni fa. Ora abita, si intende, nella regione inferiore. E rimanemmo per un po' l'uno in faccia all'altro, a bocca aperta. Lui non l'aveva la bocca, ma certo la teneva aperta, guardando me, come tenevo io la mia guardando lui. Si capiva benissimo la sua posa. Dopo un po' ruppì il silenzio. E ora? Ora, rispose ricomponendosi, io torno giù, perché ho da fare, e tu battene per i fatti tuoi. Qua la mano, e a rivederci chissà quando. Qua, là? Ero inabettito. Di quale mano parlava? Avevo mezza sporta in avanti la mia, ma lui come voleva fare, poverino, che non ce l'aveva. Ma ad un tratto me la sentii prendere la mia mano. La sentii afferrare nella sua. Sicuro? La sua, che non si vedeva. Poi la stretta carolosa s'allentò, e lui salto giù. Quella stretta e inaspettata mi aveva fatto tanta impressione che detti un urlo di terrore, voltai le spalle e mi misi a correre, a perdifiato. Non sentivo più niente, non vedevo più la strada. Giù, a rompicollo, dia, a precipizio, senza pensare a nulla.